scegliamo 120 grammi di cioccolato fondente a bagnomaria per bene a parte montate tre albumi con un pizzico di sale al composto di cioccolato ho aggiunto 120 grammi di formaggio spalmabile come la philadelphia quindi mescolate per bene io ho aggiunto anche 30 grammi di zucchero al composto di cioccolato aggiungete i tre tuorli e mescolate e per finire gli albumi montati a neve in tre volte così facendo dei movimenti dal basso verso l'alto versate in uno stampo 16 centimetri quindi coprite con la stagnola e versate nella leccarda da forno dell'acqua tiepida trasferite nel forno 170 gradi statico per 15 minuti abbassate la temperatura a 160 gradi e lasciate cuocere per altri 15 minuti spegnete il forno e lasciamo la torta ancora per un quarto d'ora zucchero a velo ed eccola pronta da gustare molto golosa sembra proprio un soufflé bellissima bellissima